A Masca Lucia, quello messo in atto dal Movimento 5 Stelle nei confronti del vice sindaco leghista Fabio Cantarella sembra assumere gli aspetti di un accanimento politico. Tutto passa attraverso la rete. La Montesanto scrive al vice sindaco Leonardo dicendo che Cantarella non dovrebbe essere in giunta in quanto militante del partito di Marteo Salvini, dopo aver abbandonato il PDL dal quale è stato sostenuto nelle ultime elezioni amministrative. E poi entrano in ballo anche gli ideali politici, mentre poi c'è la questione delle insegne che i grillini tramite Facebook invitano ad attenzionare in quanto irregolari o non ammissibili con richiesta di verifica da parte del PM. Le segnalazioni riguardano in modo particolare una tabella di via Roma dove opera un centro di raccolta vicino al vice sindaco il quale risponde e chiarisce dicendo tutto è regola, l'autorizzazione è stata rilasciata dal comune in gennaio. E attacca, forse ci potrebbero essere delle irregolarità del divieto di sosta che invece avete affisso alla vostra sede. Su questa querella in corso si inserisce anche il Coda Conce Sicilia, che amministra, si legge una nota diffusa da Francesco Tanasi, deve essere giudicato esclusivamente per il proprio operato. Dall'altra parte poi c'è anche una nota dell'onorevole Angelo Attaguide, segretario nazionale di noi con Salvini. Cantarella non dovrebbe stare in giunta perché decise di aderire al nostro movimento, cioè contrario alla carta costituzionale.